Tu conosci i Sound Lovers? Cucco sta a parrare Eh beh lo so, con te Ma se ci sei tu, Cucco, vi sta a parrare io Scusami, allora anche se io sono uno degli anni settanta Sì Avendo fatto parecchia radio La musica degli anni novanta Ma poi, ma poi devo dire una cosa Che per chi come noi fa questo mestiere Anche gli anni passati devono diventare materia, come dire, di apprendimento Mia moglie mi dice Ma tu, ma quanti anni hai? Ma quanti anni hai? Quando io le dico di conoscere film Di conoscere pezzi musicali degli anni venti, trenta, quaranta Io ho cinquantanove anni Però sei antico Però sono antico E devo dirti che mio figlio Gianluca, bravo pure lui, facendo cinema E avendo trentuno anni Si è procurato, comprato tutte le videocassette Poi il cd, adesso i file di tutti i film che lui non ha potuto vedere Perché era piccolino o perché non era neanche nato Perché fa cinema Allora, credo che Natalie sia collegato Eh, guarda che bella Ma che meraviglia Aspetta che la mandiamo in onda Eccola Ciao Natalie, come stai? Ciao bellissimi Mi sentite bene? Noi ci sentiamo benissimo Tu ci ascolti bene Ci senti bene? Eh Oh, anche lei ha gli effetti alle spalle Vedi? Eh, Natalie Ma ti dà fastidio Non le posso spegnere? No, può darsi che dia fastidio più che altro Alla qualità dell'immagine del tuo telefono Non altro A noi no A noi piacciono Eh Vediamo, vediamo Oh, è tecnologica Eh, vabbè Bellissimo Così è perfetto Questo è, questo è Come stai Natalie? Sembra un po' troppo discoteca No, bello È proprio discoteca Ma scusa È perfetto per quello di cui stiamo parlando Magnifico, magnifico E allora Qual è la situazione della discoteca oggi in Italia Dopo due anni di covid Che ha visto proprio le discoteche Tra l'altro Tra, diciamo, le vittime più eccellenti No? Delle chiusure Delle limitazioni La discoteca Insieme ai ristoratori E insieme a noi Esatto Ha subito i danni maggiori Abbiamo subito Grandi danni Sicuramente Adesso invece È viva e vivace È tutto a posto È tornato tutto al suo posto Raccontacelo Allora Sicuramente è vero E poi non erano solo le discoteche Sai che noi Penso un po' tutti gli artisti A parte i concerti I palazzetti Le piazze Era tutto ovviamente fermo Quindi Eh già Diciamo che Sì Siamo sicuramente stati Un settore Un po' toccati Esatto Più penalizzato Esatto Allora Adesso Secondo me Si è ripreso Tantissimo Si è ripreso veramente Tantissimo Eh perché dal Allora io Penso che soprattutto Il 2022 Dal 5 marzo Da quando hanno aperto le porte Non ho avuto Un weekend libero Ah che bella notizia Guarda Ma anche proprio La Spagna forse era Un pochino più avanti Perché ho fatto un festival Con 25 mila persone Alla Hanno cominciato prima Cos'è dell'arte della scienza Quella di Valencia Sì Quindi hanno aperto forse Un pochino prima Con tutte queste grandi Cioè queste quantità di persone Però abbiamo ormai ripreso Alla grande Alzi Sembra che ci sia Più richiesta di prima Ci sia voglia Sì C'è voglia di tornare Insieme Certo Involgere tutti Certo Senti il tuo rapporto Salvo con la musica Anni 90 E con la discoteca Qual è? Molto bello Perché mi ricorda Gli anni più belli Della mia vita 16, 17, 18 Io nel 79 Avevo 16 anni Nell'80 Ne avevo 17 Quindi ero Ero un docenso Esatto Poi arrivi negli anni 90 In cui arriva la musica Negli anni 90 Dei The Sound Lovers Sentiamola Vogliamo sentire la prima Poi dopo continuiamo a parlare Con Nathalie Va bene? Guarda cosa arriva Guarda cosa abbiamo scelto 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 Guarda cosa abbiamo scelto